La fabbrica delle idee è un'agenzia formativa accreditata in regione toscana. Noi ci occupiamo di formazione professionale e formazione continua. Abbiamo recentemente vinto un progetto formativo rivolto ai giovani disoccupati e inoccupati che vogliono qualificarsi nel settore dell'informatica, in particolare che sono interessati a formarsi sulla figura professionale del sistemista reti in ambienti Linux. Il corso ha il codice 172193 ed è tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche. Il corso fa parte del più ampio progetto Meccatronics realizzato grazie ad un bando della regione toscana dall'agenzia formativa Assoservizi, in partenariato con la fabbrica delle idee, sistema formazione e servizi avanzati, Assoservizi, CNA Formazione, Confartigianato Arezzo Formazione, Consorzio Arezzo Formazione Abaco, Università degli Studi di Siena, Centro Universitario per l'Innovazione e la Qualità nelle Pubbliche Amministrazioni e Casprini Gruppo Industriale. Il corso ha una durata di circa un anno, è articolato in ore di formazione tradizionale in aula e ore di formazione in affiancamento tramite lo stagio in azienda. Il corso ha la particolarità di essere completamente gratuito per chi sceglierà di frequentarlo, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE Toscana 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovani Sì, il progetto della regione toscana per l'autonomia dei giovani. Nel caso in cui arrivassero più di 12 adesioni, ci sarà una preselezione. Le tematiche su cui verte questo tipo di formazione riguardano le reti informatiche, l'installazione e la configurazione, così come l'aggiornamento e la manutenzione con strumenti open source come Linux, oltre che l'assistenza agli utenti e 200 ore di stage. Un corso che quindi risponde alle esigenze delle aziende del territorio che chiedono professionalità di questo tipo e si rivolge in particolare a giovani e disoccupati che siano interessati. I contenuti sono propedeutici al rilascio dell'attestato di qualifica riconosciuto dalla regione toscana e su tutto il territorio nazionale che è corrispondente a livello quarto europeo e QF. Il nostro obiettivo è quello di offrire al territorio una serie di corsi di formazione che siano rivolti a qualificare le persone. La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 30 aprile prossimo. Gli interessati dovranno riempire l'apposito modulo scaricabile dal sito www.lfdi.it e consegnarlo insieme al curriculum vitae alla Fabbrica delle Idee Largo Torricelli 7, località Pieve al Toppo, Civitella in Val di Chiana, Arezzo. Per informazioni 0575 360459 oppure formazionechiocciola lfdi.it Segui la Fabbrica delle Idee anche su Facebook.